E' finito in manette un nigeriano di 20 anni per il reato di spaccio di droga. A compiere l'operazione dell'arresto sono stati i carabinieri. Il giovane è stato identificato a Montevarchi, in via Po, nella zona del Pestello, lungo il Dogana, dove gli uomini dell'arma, in quel caso in abiti civili, lo hanno visto direttamente consegnare sostanza stupefacente ad un italiano del luogo poi identificato. Il nigeriano immediatamente fermato è stato sottoposto a ispezione personale. Addosso aveva solo una dose di eroina immediatamente posta, però sotto sequestro. Per lui, oltre all'arresto, anche il foglio di via, obbligatorio per tre anni dal comune di Montevarchi, mentre l'italiano acquirente è stato sentito formalmente in caserma. La zona in questione, confermano i carabinieri, peraltro è sempre sotto rigida osservazione, dato che anche a maggio 4 erano stati qui gli arresti per medesimo reato, in un'operazione che aveva visti coinvolti oltre 20 uomini della compagnia di San Giovanni. Cosicché questa non sarà certamente l'ultima missione volta a scoraggiare tale crimine.